Il debutto di Philips Lighting alla borsa di Amsterdam è stato bene accolto dagli investitori che hanno permesso al titolo di superare in poco tempo il prezzo del lipo fissato a 20 euro. La nuova società, nata dallo scorporo della storica divisione dedicata all'illuminazione, ha una capitalizzazione di mercato di 3 miliardi di euro. La decisione di separare il business dell'illuminazione rappresenta una svolta per Philips che vuole ora concentrarsi sugli apparecchi medicali, un settore in cui intravede maggiori margini di crescita. Philips Lighting dovrà invece vedersela con la concorrenza cinese.